Sergio Mattarella a Siracusa per commemorare Bassioni. Da fonte attendibile apprendiamo dei preparativi della venuta a Siracusa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'occasione è data dalla cerimonia commemorativa del Professor Sheriff Bassioni a un anno dalla morte, il 25 settembre. Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights ha voluto dedicare al suo storico fondatore e presidente, il Professor Sheriff Bassioni, che è scomparso lo scorso anno a Chicago all'età di 79 anni ed era considerato in tutto il mondo come il padre del moderno diritto penale internazionale, oltre che uno dei principali fautori dell'istituzione della Corte Penale. La cerimonia commemorativa avrà luogo domenica 23 settembre con il messaggio di benvenuto ai rappresentanti delle istituzioni, alle autorità, agli ospiti provenienti da tutto il mondo, ottenuto dal Presidente dell'Istituto Jean-François Tonny, attuale Procuratore Generale della Corte d'Appello di Rennes. Seguiranno gli interventi del Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, del Sindaco di Siracusa Francesco Italia e del Giudice della Corte Penale Internazionale, Rosario Aitala. Il Professor Sheriff Bassioni ha diretto l'Isis di Siracusa per oltre 40 anni e ha lavorato al servizio delle Nazioni Unite in numerosissime commissioni di inchieste internazionali sulle violazioni di massa dei diritti umani. Il Professor Bassioni, nominato cittadino onorario di Siracusa nel 1987, è anche stato candidato nel 1999 al Premio Nobel per la Pace, per l'impegno profuso al supporto della giustizia penale internazionale e per la creazione della Corte Penale Internazionale. Esprimeranno la loro testimonianza per onorare la memoria del celebre giurista anche Giovanni Maria Flick, attuale Presidente onorario dell'Istituto e già Presidente Merito della Corte Costituzionale e Ministro della Giustizia. La Professoressa Paola Severino, Vice Presidente dell'Istituto e già Ministro della Giustizia. La Senatrice Emma Bonino, già Ministro degli Affari Esteri. Il Professor John Varwell, Presidente dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale e il Professore di Diritto Penale Europeo presso da Utrecht University.